Newton all'età di 23 anni si è ritrovato isolato in una quarantena di un anno a causa della peste bubonica che era scoppiata a Londra. Ha deciso di sfruttare il periodo della sua quarantena per concentrarsi completamente nelle sue idee matematiche e scientifiche ed è proprio in questo periodo che tra le altre cose ha scoperto la legge di gravitazione universale e ha dimostrato che la luce bianca è in realtà data dalla composizione di tutti gli altri colori. In questo modo ha quindi contribuito a descrivere le leggi ottiche e fisiche dell'arcobaleno e anche se i colori dell'arcobaleno sono in realtà dati da uno spettro continuo all'inizio ha deciso che sarebbe stato conveniente identificare cinque colori principali. Poi però ci ha ripensato e ha deciso di aggiungere a questa lista anche l'arancione e l'indaco così da avere sette colori principali dato che sette è il numero delle note musicali. Ora vi lascio perché devo prepararmi, è il 25 dicembre e devo festeggiare l'anniversario della nascita di Newton.